In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'opera Imitazione di Cristo. Mi devo scusare perché per due volte ho saltato dal primo libro al secondo libro. Perciò ora riprendo dal primo libro, capo ottavo. Del fuggire la troppa familiarità. Non isvelare ad ogni uomo il tuo cuore, ma tratta delle cose tue con l'uomo savio che teme il Dio. Sia di rado coi giovani e coi stranei. Non corteggiare i ricchi e davanti ai grandi non comparir volentieri. Accompagnati cogli umidi e coi semplici, coi devoti e coi costumati, e tratta di quelle cose che servono di edificazione. Non essere familiare con nessuna donna, ma raccomanda a Dio in comune tutte le buone. Solo con Dio e coi suoi angeli desidera essere familiare, ed evita la conoscenza degli uomini. Carità dobbiamo avere con tutti, ma familiarità non conviene. Talora una persona ignota splende per buona fama, presente a nebbia gli occhi di chi la guarda. Talora crediamo piacere ad altri con la nostra amicizia, e cominciamo invece a dispiacere maggiormente peccativi costumi che si vedono in noi. Capo nono Dell'obbedienza e della sommessione E' cosa ben grande stare nell'obbedienza, vivere sotto un superiore e non essere padrone di sé. E' molto più sicuro essere soggetto che superiore. Molti stanno sotto l'obbedienza più per forza che per amore, E costoro ne provano pena e mormorano facilmente. Ne acquisteranno la libertà dello spirito, se non si sottomettono di tutto cuore per Dio. Corri di qua, corri di là, non troverai quiete, fuorché nell'umile sommessione sotto il governo di un superiore. L'illusione del cambiare luogo ha ingannato molti. E' vero che ciascuno opera volentieri secondo il proprio sentire, ed inclina di preferenza verso coloro che sentono come Lui. Ma se Dio è fra noi, è pur necessario che lasciamo talvolta il modo di sentire proprio, per bene della pace. Chi è sì sapiente da sapere appieno ogni cosa? Adunque, non fidar troppo nel tuo modo di sentire, ma ascolta volentieri anche l'altrui. Se il tuo sentimento è buono, e lo lasci per Dio e segui l'altrui, ne trarrai profitto maggiore, poiché ho spesso udito essere più sicuro a ascoltare e ricevere consiglio che darlo. Può anche darsi che sia buono il sentimento di ciascuno, ma non volersi acquettare a quello degli altri quando la ragione o la convenienza il richiede è segno di orgoglio e di ostinazione. Laudetur Iesus Christus, Semper laudetur, In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen.